Basta morti in strada, basta morti in bici. Ad esempio manifestazioni come questa che uniscono varie categorie, non solo i ciclisti ma anche i runner, chi si occupa di ecologia, sostenibilità del traffico. In questo caso se dalla cittadinanza arriva una richiesta molto forte io sono sicuro che quello che chiamiamo il palazzo dovrà per forza ascoltarla. Noi diciamo che l'Italia non è un paese per bici perché investe 100 volte di più sull'automobile rispetto alla ciclabilità. Ci sono tassi di motorizzazione nel nostro paese di 70 automobili ogni 100 abitanti a Roma quando le altre capitali europee ne hanno meno di 30. e l'idea che si possano tagliare oltre 90 milioni per le piste ciclabili far rabbrividire. E anche infrastrutture fatte con un po' di buonsenso. Questa è l'uscita della pista ciclabile della Nomentana e appena si esce dove ci si trova? Sulla Nomentana, contromano.